Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio insegnarvi come installare OSX 10.10 Yosemite di Velo per Preview sul vostro computer tramite una seconda partizione. Prima vi ho mostrato nel video precedente come installarlo su macchina virtuale, se non avete visto quel video andate in descrizione e troverete il link. Andiamo adesso però a vedere come installarlo su una seconda partizione. Questa installazione darà vita a un sistema operativo davvero fluido, veloce e reattivo, a differenza di quello che avevamo ottenuto tramite l'installazione su macchina virtuale, ovvero un sistema operativo estremamente lento ed estremamente limitato, praticamente inutilizzabile. Con prima cosa apriamo Utility Disco. E ora dovremo decidere dove andare ad installare il nostro sistema operativo. Allora, questo è il disco principale installato nel mio computer. Se io volessi andare a creare una partizione per Yosemite, andrei sulla partizione principale, che è quella dove è installata Maverix, premerei sul mio più e darei una dimensione a questa partizione di circa 30 GB per non andare appunto a incidere troppo sulla partizione principale per non togliere troppo spazio, perché a me non basta mai. Dopo aver dato la dimensione alla seconda partizione, possiamo eventualmente rinominarla e chiamarla ad esempio Yosemite, e dopo di che premiamo su Applica. Io non lo vado a fare perché ho installato Yosemite sul mio harddisk esterno. Esatto ragazzi, io Yosemite l'ho installato sul mio harddisk esterno, che è collegato non tramite Thunderbolt ma tramite USB 3.0, per cui comunque ha una velocità piuttosto elevata. Come vedete questo è il mio harddisk, ora non mi fa più modificare le partizioni perché appunto sono partizioni di boot e quindi serve avere le autorizzazioni necessarie. Questo è il mio harddisk, diciamo la mia partizione che utilizzo per i dati, con tutte le mie cose. E poi c'è la partizione con Yosemite, sulla quale è effettivamente installato il sistema operativo. L'unica cosa da tenere presente per riuscire a installare con successo il sistema operativo è la seguente. Quando io vado a partizionare il mio harddisk e nello schema delle partizioni non c'è scritto tabella partizione GUID, ma c'è scritto MBR, allora dobbiamo andare a formattare del tutto l'harddisk. Quindi copiate i file che vi servono da un'altra parte, dopodiché andate su schema partizioni, selezionate due o più partizioni in base a quello che volete fare, una la diamo ai dati e una la diamo ad esempio a Yosemite e andiamo su opzioni e selezioniamo tabella partizione GUID, non MBR. A questo punto dobbiamo essere in possesso di questa applicazione, l'applicazione per installare Yosemite. Questa applicazione la si può ottenere essendo sviluppatori Apple pagando la cifra che dovrebbe essere qualcosa come 100€ all'anno oppure la si può cercare su Google o su Torrent. Io in ogni caso non vi do il link perché altrimenti sarebbe diciamo una violazione del copyright. Vi lascio in descrizione il link a un sito sul quale poi potrete trovare il link. Dunque diciamo un doppio collegamento per evitare ogni coinvolgimento appunto in azioni di questo tipo. A questo punto andiamo ad aprire l'applicazione. Andiamo su continua, accettiamo tutte le varie condizioni, e dopodiché premiamo su Mostra tutti i dischi perché altrimenti la installerà sul vostro computer principale. A questo punto come vedete abbiamo tutte le partizioni. Se la nostra partizione fosse stata MBR e non GUID, semplicemente sarebbe stata diciamo ingrigita e non sarebbe stata possibile la selezione. In questo caso io l'ho installato su questa partizione. Voi selezionate la vostra, premete su Installa, andate avanti, seguite tutte le varie fasi del processo e dopo il computer vi sarà riavviato in Yosemite. A questo punto dovrete cambiare una cosa fondamentale. Suppongo che tutti voi che installerete Yosemite non lo farete per utilizzare Yosemite come sistema operativo principale, ma lo farete soltanto per provarlo. Dunque ci serve impostare il nostro Maverix come sistema operativo principale perché altrimenti quando scendiamo al computer lui cercherà di avviare Yosemite e sarà un problema. Allora andiamo sulle preferenze di sistema, questo da Yosemite, non da Maverix, al primo avvio e andiamo sul disco di avvio e selezioniamo Mac SSD o HD 10.9.3, insomma la versione di Maverix. A questo punto ogni volta che voi riavvierete il computer andrà automaticamente in Maverix. Se voi invece volete usare Yosemite per mostrarlo a un vostro amico oppure per provarlo, avete visto qualche funzione interessante, durante la fase di avvio tenete premuto su Alt. e verranno mostrati tutti i dischi dai quali è possibile fare boot. Selezionate il disco di Yosemite, premete invio e automaticamente verrete trasferiti alla sezione di Yosemite con il login e tutte le varie informazioni. Quando nuovamente riavierete il computer partirà nuovamente con Maverix e questo significa avere una partizione secondaria. Dunque ragazzi spero di esservi stato utile, il video di oggi finisce qui, noi ci vediamo al prossimo e ciao a tutti! Grazie a tutti!